Ben salve e buonasera a tutti, chiusura di seduta debole per l'azionario europeo dovuto al nulla di fatto dell'Eurogruppo della riunione, anzi in videoconferenza di ieri. I ministri delle finanze europei quindi torneranno a riunirsi nella giornata di domani. Lo scoglio principale è l'inserimento nel testo di fondo comune speciale per le emissioni di un bond comune per poter raccogliere ingenti risorse volte a finanziare la ripresa economica. Il ministro italiano dell'economia Roberto Guartieri ha scritto su tweet che nonostante i progressi nessuno accordo è ancora dall'Eurogruppo, quindi continuiamo ad impegnarci per una risposta europea all'altezza della sfida del Covid-19. È il momento della responsabilità comune e della solidarietà e delle scelte coraggiose e condivise. Oggi per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate nella giornata odierna non abbiamo indicazioni interessanti, quindi prima di tutto andiamo a vedere un po' le chiusure con i DAX che chiude a meno 0,21%, poi l'Ibex meno 0,71%, CAC di Parigi più 0,10%, FUZI Londra più 0,47%, FUZMIB che chiude invece a meno 0,14%. Per quanto riguarda invece la situazione appunto tutto è rimandato a domani all'ore 17 parte ci sarà una nuova riunione dell'Eurogruppo sempre in videoconferenza, quindi è stato già preso stamattina con una nota ufficiale dopo che il meeting di ieri come abbiamo detto prima si è concluso per un nulla di fatto. Andiamo a vedere invece domani che cosa ci offre calendario macroeconomico all'ore 8 dalla Gran Bretagna alla produzione industriale e manifatturiera della zona Euro, mentre alle ore 10.30 dalla Gran Bretagna il PIL mensile. Poi si continua con alle 13.30 abbiamo il meeting da parte della Banca Centrale Europea, quindi sarà la volta di Christine Lagarde sui tassi di interesse, ma molto probabilmente non ci saranno delle grosse indicazioni interessanti, poi alle 14.30 una serie di indicazioni interessanti sia dagli Stati Uniti che dal Canada. Si parte con l'indice di prezzi alla produzione americana, poi le richieste iniziali alla disoccupazione, mentre invece dal Canada abbiamo un doppio appuntamento, variazione del livello di occupazione di marzo e il tasso di disoccupazione del mese di marzo. Bene, andiamo invece a vedere che cosa è successo oggi. Oggi, come già ho indicato all'interno della chat Telegram, all'interno della diretta live, sia mattutina che, ma soprattutto quella pomeridiana, come ci si voleva, ci aspettavamo, è stata una giornata che fondamentalmente non ha mostrato delle grosse indicazioni interessanti. Questo perché? Perché praticamente sono tutti in attesa di attendere nuovi news in programma dall'Eurogruppo, quindi dai vari ministri delle finanze, quindi è tutto, siccome è rimandato a domani, quindi un mercato un po' congestionato, un po' ingestato su tutti gli scenari. Stessa situazione quindi anche per quanto riguarda la situazione legata al dollaro americano, dove Donald Trump ha chiesto al congresso americano di poter firmare un nuovo decreto, una nuova che permette appunto di poter liberare altri 250 miliardi di dollari dopo anche i 750 mili miliardi della scorsa settimana appunto per poter dare un'ulteriore manforte alle famiglie. Detto questo andiamo a vedere invece l'unico, diciamo che l'unico situazione interessante abbiamo aumentato il gain sugli indici con l'operazione I16 dove praticamente il buy stop sul Dow Jones dove abbiamo raggiunto contemporaneamente sia il primo che il secondo target a 23.100, primo target quindi 100 punti, secondo target a 23.260 quindi altri 260 punti, totale 3.60 quindi qua abbiamo operazione chiusa 1.705 punti, quindi praticamente ottime performance. Per quanto riguarda invece l'unica operazione che stamattina abbiamo indicato direttamente all'interno della diretta live mattutina, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo per quanto riguarda, allora per quanto riguarda i Dow Jones o abbiamo un'altra operazione buy a mercato, questo movimento rialzista potrebbe continuare intorno fino a raggiungere i massimi anche perché per quanto riguarda al momento la situazione legata agli indici americani, andiamo a vedere un po' anche la situazione, vedete rimane ancora rialzista quindi con i Dow Jones dove siamo al mercato sta 2.54 o più quindi ci potrebbe stare una nuova strappo rialzista dopo questa piccola movimentazione, questa piccola zona quindi dove poi abbiamo preso l'ultimo profitto proprio esattamente ad 23.260, infatti piano piano vedete come si sta spostando verso l'alto, detto questo molto interessante andiamo a vedere anche come dicevo prima per quanto riguarda l'operatività di stamattina unico setup che è partito il buy sull'oro in questo momento ci troviamo a meno 35 punti vedete come la situazione però è ancora anche qua vedete è molto indecisa con diverse shadow siamo su un grafico a 4 ore potete ben vedere come le candele le ultime 1 2 3 4 5 6 7 8 candele sono relegate all'interno di un'area ben ristretta ben definita con upper e lower shadow quindi ciò sta a significare che praticamente il mercato è ancora molto nervoso molto quindi stabile quindi situazione che da seguire quindi anche nelle prossime domani vediamo un po' se riesce però adesso vedete come si sta spostando più su ovviamente dobbiamo andare a vedere in serato come chiude la candele anche in ottica giornaliera per quanto riguarda altre situazioni abbiamo ancora un'operazione su euro dollaro siamo ancora buy al mercato per quanto riguarda euro dollaro anche qua alti e bassi della giornata quindi ancora il prezzo è stabile seppure facciamo fidamento sul sulle posizioni sulle sulle posizioni nette in acquisto del report cot dove praticamente appunto sono per la terza giorno per la terza settimana di fila sono a vantaggio delle posizioni di acquisto detto questo molto interessante guardare anche la situazione sulla sterlina sul cable il cable siamo ancora lasciamo le operazioni sell al mercato dove il mercato dove adesso vedete si sta portando un po' più in alto ovviamente anche qua la situazione è un po' di difficile valutazione siamo è rientrato all'interno di questa zona di congestione quindi aspettiamo che cosa succede in serata per poi decidere sul da farsi per quanto riguarda invece l'altra operazione stellina dollaro della nuova zelanda gbb new zealand l'altra operazione che abbiamo è partita proprio l'operazione la 17 che abbiamo modificato i setup di ingresso al mercato quindi partita esattamente alle ore 16 e 54 al momento stiamo vedete intorno alla parità quindi lasciamo l'operazione in in cell dove praticamente dopo questa flag vedete questa flag potrebbe ripartire una nuova movimentazione una nuova eccoci qua quindi potrebbe ripartire un attimo solo che vado ad aggiustare dopo questa flag fondamentalmente potrebbe ripartire una nuova nuovo movimento a ribasso ad prosecuzione del movimento precedente alla flag bene per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiungiamo domani mattina con la prima diretta live anzi la quarta diretta live della settimana alle ore 8 e 30 buonasera da tutti